Il quadro rubato è il Giocondo di Teomondo Scrofalo Il quadro rubato è il Giocondo di Teomondo Scrofalo Non dovete perdere Benvenuti alla partita delle scope volanti Le scope volanti sono a fare il tagliando Il primo film italiano in 3D Ho detto sono Don Diego della Vega Don Diego della Sega Ma qual'ha la Sega? La più grande parodia cinematografica di tutti i tempi Ma io mi sto a scufare Se no me ne vado a stare a vedere il pupone Che può succedere ancora di tutto? Lui è Frodolo Il signorino degli anelli viene dalla terra di mezzo Sti cazzo Ma fatene via impostore Ora vediamo chi è l'impostore Ah! Ah! Lo so scassa da capi... Ah! Non so! Non so! Non so, non so Non so, non so Non caglia più Non caglia più Non caglia più Box Office 3D Un film di Ezio Greggio Anche in 2D Aveo Massimo Aveo Cesava Da settembre al cinema